Buonasera, vi chiedo aperta la seduta consigliare del 17 febbraio 2022, possiamo procedere con l'appello. Presente, Gianni è? Presente. Prima appunto all'ordine del giorno, c'è la surroga del consigliere di missionario. Prego, sindaco, le cito la parola. Grazie Presidente. Allora, rilevato che il consigliere comunale, nella vista Uniti per Caso, in grado Veronica, con lettera su dal protocollo del 10 febbraio, ha presentato personalmente le proprie commissioni dalla relativa carica per le motivazioni riportate nella stessa lettera, è visto l'articolo 38,8 e poi dispone in quattro ore che le commissioni della carica di consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e danno in merata efficacia. Quindi, ravvissata dunque la necessità ai sensi dell'articolo 45 di procedere alla surroga del consigliere di missionario per il candidato Filippo Rossetti, che nella tredesima lista segre direttamente l'ultimo letto, si chiede il voto favorevole di attribuire il seggio al consigliere comunale di una carica a seguito delle dimensioni della carica presentata dalla consigliere dallo Veronica al candidato signor Rossetti Filippo, che nella tredesima lista segre direttamente l'ultimo letto, di convalidare, alla luce dell'argomentazione di diritto prodotta dall'interessato e le elezioni del consigliere comunale subentrato signor Rossetti Filippo, di dare atto che alla delibera essenza dell'articolo 38,4 del debito legislativo 267-2000, il nuovo consigliere comunale entra in carica non appena adottata dal consiglio della relativa delibera di surroga, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Grazie Presidente. Ci sono interventi a riguardo? Prego consigliere Giuliani alla facoltà di parlare. Grazie. Se posso permettermi, ripeterò quello che forse è in forma trovata o espresso tra me e me nel leggere di questa surroga, la semplice parola peccato, nel senso che per quanto io riprenda che non ci sia in realtà una stretta connessione tra occupare una poltrona e saper fare. In questo caso mi è dispiaciuto semplicemente per quel senso di forse di aspettativa che un po' tutti ci siamo, sono creato in generale, sono un profilo molto giovane, molto capace, molto vivace, non sta a significare nulla perché siamo certi che il contributo sarà più che di sostanza e di competenza, però ecco dava l'idea a così poco tempo da direzioni, così ancora con tanto tempo da poter trascorrere insieme e ci potesse essere riferimento e riferenza nell'essere comunque, nel continuare ad essere consigliere. Ripeto, nulla da incipire, anzi benvenuto al consigliere Rossetti, un po' dirammatico perché insomma aveva un taglio di freschezza, di novità, ripeto, nulla apposita a quella competenza, sono certi, stiamo certi di esprimere all'assessore. Grazie, altri interventi? Io invece proprio per le stesse motivazioni, veramente, rinvaso per la freschezza e la giovane età di Filippo Rossetti, che andrà a far parte di questo consiglio comunale, che ha dimostrato già da tempo la sua voglia di lavorare, ha proseguito oltre la campagna elettorale ad essere presente, a collaborare in amministrazione, invece lo accogliamo con un grande abbraccio, questa sua presenza giovane, di un giovane volenteroso, che è di poche parole ma di fatti molto concreti e sono sicuro che l'assessore Lallo continuerà a fare il suo lavoro a prescindere dal fatto che sia o meno consigliere, ma una giovane ragazza che ha tanta voglia di lavorare, lo sta dimostrando già da adesso perché ha proprio voglia di capire e già sta dando i suoi contributi con degli atti concreti che riguardando il programma di mandato ha già messo a segno delle attività, abbiamo scritto nel mandato e l'ha portato già a compimento. Quindi grazie e benvenuti ad entrambi faremo un lavoro tutti quanti assieme molto lodevole e importante. Allora se non ci sono ulteriori interventi io procederei alla votazione. favorevoli, contrari, astenuti. Adesso vogliamo che l'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, contrari, astenuti. La delibera è approvata dal Consiglio e prego il Consigliere Rossetti di prendere posto nel Consiglio Comunale. Prego il Consigliere Rossetti, se vuole dire qualcosa mi guardo. Grazie Presidente, io vorrei solo ringraziare il Sindaco e tutti i gruppi di venti per caso che per questa opportunità mi è stata concessa e questo mi dà solo ulteriore stimolo a continuare a collaborare per il benessere del nostro Comune e di tutti i suoi cittadini. di nuovo quindi un augurio di buon lavoro a tutti i Consigliere Comunale, a tutta la Giunta, al Sindaco e grazie. Allora andiamo avanti con il secondo punto all'ordine del giorno, lettura in approvazione verbale di seduta precedente del 30 dicembre del 2021, se non ci sono osservazioni oppure ci sono osservazioni a riguardo, altrimenti diamo per approvata la delibera, approvato il verbale. Allora andiamo avanti con il terzo punto all'ordine del giorno, linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del comandato 2021-2026 e relativi provvedimenti. La parola va al Sindaco. Grazie Presidente, grazie Capogruppo, si è acceso? Sì, è acceso. Il vostro, non è sempre la porta, c'è il vostro, non è sempre la porta. Allora il programma di mandato l'abbiamo risezionato in campagna elettorale e è lo stesso, non è che è cambiato. Farò una sintesi dei punti fondamentali del programma di mandato che sicuramente sarà ancora più importante la verifica delle cose che abbiamo detto se poi le portiamo a compimento. Quindi a primo punto l'amministrazione si è avviso al cittadino e i concetti di base di un'amministrazione di qualità sono la trasparenza, l'efficacia, la partecipazione e il confronto. Quindi la trasparenza è lo strumento idoneo ad assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del colandamento della pubblica amministrazione, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sull'azione pubblica, umore e la cultura della realtà e prevenire i fenomeni colluttivi. A tale scopo si evidenziano le azioni prioritarie che si intenderanno portare avanti, quindi continuare a garantire e migliorare l'accessibilità dei dati e le informazioni, dei documenti contenuti sul sito dell'amministrazione del Comune di Caso. Veramente possiamo trovare di tutto, dei termini, dei libri, dei libri di giù, dei bionzi, ordinanza e tutto sul sito del Comune di Caso. Anzi, io invito tutti a darne l'immunicazione perché è uno strumento per poter dare la massima trasparenza alle attività che si fanno. Poi proseguire gli incontri a distanza con il sindaco e gli amministratori, ne abbiamo fatti tantissimi, in particolar modo io nel momento del Covid, ma li continueremo a fare durante tutti i cinque anni di mandato e vorrò assieme a me la partecipazione anche di tutta l'amministrazione e perché no anche del gruppo di minoranza in un qualche compromesso che sarebbe veramente cosa molto utile. Poi programmeremo degli incontri periodici con la cittadinanza, sperando che adesso finisca questo momento, questa pandemia che stia veramente scemando e anche i numeri che quasi quotidianamente invio e pubblichiamo stanno diminuendo di contagiati, ma in particolar modo, per fortuna, le persone contagiate grazie anche ai vaccini che non hanno seri problemi, sono esclusivamente finora chi ha delle comorbidità che di conseguenza può portare a difficoltà maggiori, però per fortuna sta andando tutto nel migliore dei modi. Poi istituire un arco dei volontari per individuali cittadini che vogliono pensare a propria opera di collaborazione per determinati servizi, vigilanza davanti alla scuola e questo l'abbiamo già fatto, proprio ricordavo prima con l'assessore d'anno. Poi ampliare le forme associative per servizio nell'ottica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'ente, attivare nuove convenzioni o accorti di rete con ONUS e associazioni di volontariato, intraprendere azioni di confronto con i comuni circostanti, cosa che abbiamo sempre fatto, ma continueremo a fare sia nella partecipazione dei bandi, sia nelle attività anche di protesta con altri enti per attività varie. Secondo punto è servizi sociali alla persona. L'obiettivo primario sarà continuare a garantire a tutta la cittadinanza un livello diffuso di benessere sociale attraverso l'utilizzo di risorse proprie dell'ente della regione Abruzzo e di altri finanziamenti derivanti dai bandi che ci sono in essere. Saranno sempre garantiti, migliorati e potenziati per gli aventi diritto i servizi che oramai conosciamo molto bene, quali l'assistenza educativa, il trasporto all'unico diversamente abili, sia all'interno del Paese che verso i centri vicini, il progetto della vita indipendente, l'AIA, la cosiddetta assistenza domiciliare integrata, l'AIA, l'assistenza domiciliare di anziani, l'attività dei centri CAC, il centro abbinativo di terza età, l'erogazione e l'attivazione dell'eroglio cittadinanza e dei BUC. I BUC oggettivamente hanno sempre una grande difficoltà di essere attivati, poi per un motivo o per un altro, i cosiddetti progetti utili alla collettività, ma sia noi che molti altri anni hanno veramente difficoltà ad attivare questi BUC. Non so se è capitato da me qualche altra volta, ma poi il servizio d'Anna dei Borsetti è dedicato alla prima infanzia, l'attivazione della guadagnestiva marina per i minori di 6-14 anni, con partecipazione al campus estivo dal VV dei suoni. Valendo sui servizi sociali, c'è da dire che è da pochissima un'approvazione da parte della regione Abruzzo del piano dei servizi sociali che dovrà essere discutito così, il piano 2021-2023, oggettivamente siamo nel 2022, quindi un anno è già passato e adesso bisognerà programmare queste attività e sicuramente una cosa a cui dovremo mantenere alta l'attenzione sarà l'integrazione dei servizi sociosanitari, perché è stato un grande momento di aggregazione e di miglioramento dei servizi e non possiamo sicuramente abbassare la guardia. Io questa mattina ho partecipato al comitato di istituto dei sindaci dell'ASM e anche se non c'era l'ordine del giorno l'attività dei servizi sociali è stato anche discusso con queste attività che dovremmo tenere molto attenzionati. Per quanto riguarda il terzo punto, l'istruzione, punto di partenza per costruire un sistema formativo integrato è la centralità della scuola, loro per eccellenza ovvero nuove generazioni acquisiscono e potenziano le competenze di base trasversale necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisionità e progettualità al fine di porre le basi per l'esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. Le conseglie che ti viene, in prescindibile per l'amministrazione, creare sinergie e strategie con i due istituti scolastici presenti sul territorio, con le famiglie, con altri servizi, enti e associazioni consolidando e con rafforzando le collaborazioni in atto e favorendo il sviluppo di nuovi partenariati e reti. L'amministrazione si attiverà per garantire l'organizzazione, l'imperimentazione e il funzionamento qualitativo dei servizi e delle iniziative già interdese nel precedente mandato e per seguire altri obiettivi, attivazione e possibilità del pre e post scuola per agevolare la gestione dei tipi da parte dei genitori lavoratori, l'introduzione dei spazi e attività per il sostegno allo studio, anche di supportare e potenziare le attività di studio e prevenire attività eventuali, fenomeni di dispersione scolastica e un successo formativo. Implementazione di un progetto pedibus per far morire l'autonomia, l'attività fisica, la socializzazione, aumentare la sicurezza sulle strane, contrastare la concessione del traffico all'ingresso e uscita da scuola e migliorare la qualità dell'area. Realizzazione dei progetti contribisi da scuola e amministrazione comunale, promozione di interventi ed equazione alla legalità, alla salute e sicurezza in collaborazione con gli organi competenti. del territorio. Progettazione e realizzazione di una biblioteca multimediale con prestito interbibliobietario per garantire a tutti gli studenti e cittadini a frizioni di servizi tramite l'accesso al web alle strutture tecnologiche. Potenziamento della biblioteca cartacea per promuovere la lettura attraverso laboratori, incontri con gli autori e giornate a tema. Istituzione di uno sportello d'ascolto per problematiche genitoriali e neuroscienziali con una psicologia dedicata. Arricchimento dell'offerta formativa mediante il coinvolgimento delle associazioni culturali e sportive del territorio e tante altre attività che adesso non vi elenco contestualmente che comunque abbiamo la possibilità di controllare sempre con il sito, come vi dicevo prima, perché è tutto online. Però ci tengo a sottolineare la possibilità, la volontà di creare la creazione di un comitato di genitori per avviare percorsi di formazione al fine di ampliare le competenze genitoriali e riflettere su problematiche emergenti. Potenziamento del sistema integrato 06 con l'ampliamento temporale e numerico del servizio facendo di capo la Tana dell'ossetto. Facilitazione e supporto alle scuole per l'accesso ai musei, ai musei, ai musei, alle mostre per avvicinare i ragazzi alle bellezze culturali e artistiche del territorio. Sostegno alla scuola paritaria, cosa che abbiamo sempre fatto e che lo vedremo a fare. In poche parole, la mission di vita è quella di costruire un sistema formativo integrato di cui il dirigente scolastico di personali alta, genitori, studenti enti, associazioni e amministrazioni comunali lavorano insieme al rispetto dei ruoli di ciascuno con procedure trasparente, partecipate, condivise e ben definite e domani abbiamo già convocato il dirigente scolastico altre volte per avere rapporti, la convocheremo per la settimana prossima proprio per comunitarci su delle concettualità da portare avanti quindi ci deve essere sempre la massima collaborazione soprattutto con fronte e sinergica poi al quarto punto, cultura e turismo il nostro prese spicca per la sua bellezza geografica e l'importanza storica ed ha il merito di essere riuscito a conservare nel tempo per qualità importanti che permettono sicuramente di implementare un turismo pronto ad immergersi in un percorso multisensoriale che passa attraverso il tempo tra storia, arte, cultura, natura e no gastronomia caso di pulla, di storia, cultura e tradizioni saprò finire geniosamente se stessa al turista ponendo di fronte ed emozioni da vivere intensamente partendo da questi presupposti la nostra idea è quella di far nascere un turismo che potremmo chiamare a spasso nel tempo e nel territorio casolano lo scopo è quello di rendere il paese sempre più attrattivo e rilanciarlo attraverso i tenerari capaci di far nascere i visitari di visitare i casoli costellati di tante esperienze idonee a cui coinvolgere il turista a vari livelli emotivo, cognitivo, creativo ed è proprio di oggi un incontro che l'assessore De Petra ha fatto con dei tour operativo proprio per inserire caso in percorsi literari turistici non so se è partecipato per il capogruppo doveva partecipare no, 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 va bene poi ne pagate al fine di realizzare questa nostra idea si prodiziano le seguenti azioni progettare i tenerari turistici e emozionali guidati e percorsi temporali con l'aiuto di esperti nel settore del turismo guide turistiche e formazioni diminuiti di concetto con le scuole programmare percorsi guidati e gastronomici per scoprire le aziende locali promotrici delle eccellenze e prodotti tipici valorizzare ulteriormente gli edifici storici del patrimonio in lente come il Castello Lucale l'ex municipio testimoni di un tempo passato ancora presenti e vive sostenere le azioni di intervento di recupero da parte dei privati sull'esempio di quanto realizzato nel caso di Palazzo Tivi Palazzo Ricci e tra le iniziative come il caso è un euro individuare i percorsi guidati che attraversano in più giorni tutti gli aspetti saliani del nostro paese prevedere soggiorni di vacanza per famiglie con bambini creando anche per i più piccoli dei percorsi ludici attraverso i quali possono imparare divertendosi dall'espasso all'apertura di piccole botteghe per la vendita di non fatti locali libri sulla storia di caso in Piegata Maiera Castello il campo di concentramento degli internati eccetera incrementare gli eventi a tema nei vari nuovi simbolo del territorio di Castello per dare voce alla storia e alle tradizioni individuare nuovi luoghi e scorcia a cui dare un nuovo volto valorizzando e sostenere la nascita di B&T e anche il turismo eccetera e dare anche la possibilità delle attività di poter inserirsi all'interno del centro storico e poi nelle prossime terripe approveremo anche degli incentivi o meglio degli sgravi a delle aziende che si vorranno inserire inserire nel centro storico sarà la nostra intenzione quella di redigere un piano di recupero del centro storico nonché realizzare un piano volore per l'armonizzazione delle facciate con il contesto storico prevedendo anche degli incentivi per i privati cittadini e piani e guarsi allo stesso e per la mimetizzazione e eliminazione di elementi architettori necessari al contesto questa è una misura che abbiamo già fatto su via Campario che è stata recepita da un cittadino e una famiglia ma la vorremmo continuare a portare avanti fulcro nel centro storico il castello lucale oggetto di una progettazione già approvata e in via di votazione da parte del Ministero della Cultura nonché su un'altra misura di finanziamento inerente intervento della dottiera la funzione della progettazione del castello medievale di caso il tale progetto ha visto come in crevazione la stipula di una convenzione con la sovipendenza per riportare sul territorio dei perditi di inserimento romanico di publie oggi depositati prezzo e magazzini della sovipendenza inoltre il regolamento del concorso Balconi di Angoli Fioriti nel capoluogo del comune di caso sarà modificato con la possibilità di partecipare in forma associata ad esempio più abitazioni della stessa via proseguendo iniziative svolge consagitate l'amministrazione intende continuare a sostenere e incentivare le attività legate agli scambi culturali fra gli alunni delle scuole superiori di casa e quelli di canning e il gemellaggio in seguito al gemellaggio realizzato fra i comuni il patto amici del comune di Castel San Vieto si è completato con la sottoscrizione del gemellaggio che consente di attivare le relazioni di campo turistico culturale e commerciale tra le due comunità si conferma la realizzazione del festival letterale Castello festival d'annunziano con la presentazione di libri etni da autori di elevanza locale e nazionale promettente anche a rappresentazioni teatrali e museali per mantenere viva la vita culturale del paese si articherà un avviso pubblico con l'investazione di interesse e comunicazione di soggetti che vanno a portare una gestione più ampia ed efficace del Castello infine riteniamo indispensabile di sostenere il processo di inclusione delle persone comuni e altre culture attraverso supporto formativo basato sull'aiuto all'apprendimento sia della vita italiana che delle leggi e delle organizzazioni burocratiche luoghi di incontri di luoghi inclusivi pensati come spazi di comunità e di rapporti sociali e culturali quindi punto sport benessere sicurezza e l'importanza del motorio sportivo non è legato solamente al benessere psicofisico degli individui la pratica motoria e sportiva assumono infatti una fondamentale funzione culturale e sociale diventando importante strumento integrazione e per questo motivo le azioni coordinamenti e programmazione del campo dello sport saranno sempre più legate all'intervento delle attività politiche educative formative culturali sociali sanitarie economiche del nostro territorio l'associazionismo ha protetiziato e ha modernato nell'ottica della collaborazione piena con l'amministrazione comunale curando una programmazione condivisa che abbia come obiettivo una maggiore rete tra i soggetti sportivi e una maggiore partecipazione di altre associazioni che operano nel settore sociale per la definizione di un piano comunale per lo sport bisognerà che sì con l'associazionismo sportivo definire insieme i momenti di sviluppo dell'intero settore sportivo del territorio potenziando tutti i livelli di seguito alcuni interventi considerati prioritarie da perseguire anche attraverso un tavolo programmatico che raccolta in modo permanente le indicazioni che di volta in volta possono arrivare dall'associazionismo risultato di razionalizzare gli impianti e i costi quindi rafforzare e sostenere il migliorare il modello di gestione degli impianti implementare il rapporto tra scuola e associazionismo per l'utilizzo degli impianti sportivi superando il concetto di priorità e i luoghi esclusivi per riuscire a rispondere a un modo più efficace possibile alle esigenze di spazi espresse ai cittadini insieme a questi studenti e ai sportivi ci saranno anche attivati per dare possibilità alla posizione anche delle strutture della provincia delle scuole superiori per utilizzare alle associazioni che c'era stato un blocco ma un po' di stile di soffro quindi sviluppare azioni congiunte tra istituzioni scolastiche e associazioni sportive per favorire attività età scolastiche tra i giovani creare maggiori opportunità per la pratica sportiva per i cittadini in tutte le età e condizioni sociali valorizzare gli impianti esistenti proseguendo i lavori di ammodernamento e di sicurezza di chi stessi ricercando nuove forme di finanziamento e collaborazione con le associazioni identiche anche per lo sviluppo di altri sport un inciso spero proprio che potremmo tornare a fare i giochi senza confini adesso vi passeremo questo Covid perché è stata un'esperienza molto molto bella anche se in un modo diverso ma è una cosa che potremmo sicuramente fare tutti andassieme perché no partecipare anche noi come amministrazione in prima persona favorire scambi sportivi con altri paesi attraverso anti-sportivi e convenzioni che quadrano a potenziare l'utilizzo degli impianti quando riguarda il sesto punto ambiente urbanistica l'oasi di Serra Nel e la terra naturale si trova è una risorsa molto molto importante per noi si trova l'Italia è una zona speciale di conservazione come il Casso di Artino e Sant'Erosano del Sacro l'area esistente per circa 302 ettari e la bassa valle del Sacro ha la concluenza con il fiume Aventino di origine artificiale aumentata in breve tempo con una valuta di incandita importante per la sosta di uccelli migratori il lago di Serra Nel grazie alla sua posizione è prossimo alla costa biatica alla confluenza tra i fiume Aventino una delle aree più importanti per la sosta di uccelli migratori in Italia centrale una particolare attenzione sarà rivolta a questa amministrazione che arriva a essere uno di ente capofila alla piena valorizzazione di quelle che sono le risorse e potenzialità dell'OSI completando le strutturazioni della foresteria presente in un'età quarenna in vista anche delle possibilità di ospitare i gruppi di studiose lavorare in sinergia con altri comuni a fine di poter garantire continuità una cooperativa che gestiscono l'OSI valorizzare e pubblicizzare i percorsi già presenti accessibili a piedi a cavale con la mudebike e siedi a laccio ma già esistente facciato ciclabile di percorrenza di Agusta che dalla leccella di Torino di Segoli arriva all'OSI di Serra Nel proseguendo fino al lago Sant'Aggio dove è possibile visitare e ammirare la torre di Prata ed effettuare un percorso vita che si snoda lungo rive del lago fino al sorgente del Verde altro obiettivo dell'amministrazione è di stimolare la gestione di questi luoghi da parte di Tome che si otteneranno in associazioni di correnti e eccetera la gestione della posizione e la potenzione della ricerca scientifica sarà dal centro della nuova programmazione amministrativa inoltre si propederà alla ristrutturazione al ritrisso del ponte su Torrente Gognia che faciliterà il collegamento tra la parte di Sant'Aggio Sanitoaren evitando la strada asfaltata durante le passeggiate ecologiche l'istituzione dell'area SIF il sito di importanza della unità del bosco con le foreste e la ricerca di caso il regno del nipio reale sarà un'ulteriore occasione per passeggiate a piedi con un guido esperto oppure a cavallo con un mountain bike sempre nel più rispetto dei luoghi e delle loro valorizzazioni il Verde costituisce un patrimonio comunale rinunciabile nella salute della proprietà della vita dell'intera popolazione il sistema del verde della città costituito principalmente dal verde pubblico dal verde territoriale dal verde privato è un componente fondamentale del passaggio urbano e territoriale riversano un ruolo di vitale importanza per l'ambiente la biodiversità del territorio la proprietà urbana e la socialità il mio obiettivo deve essere dunque tutelato e sviluppato per concorre nel miglioramento della unità di caso il strumento attuativo sarà la formazione del regolamento per la tutela del verde urbano poi quando riguarda l'ingiene pubblica la gestione dei pubblici si basa sui seguenti principi la gestione è la fonte della posizione di stessi l'aumento del riciclo del riferizzo e della raccolta di differenza attualmente il nostro comune è di rischio all'80% di tale raccolta il compito dell'amministrazione sarà quello di riciclare e incentivare la raccolta di altri spolice di loro da differenziare così da incrementare ulteriormente il percentuale di raccolta di differenza iniziata il loro obiettivo è quello di realizzare un centro del riuso dove dare una seconda vita a quei pleni che ancora utilizzati possono soddisfare esigenze di cittadini che ne facessero richiesta sarà cura dell'amministrazione e della redazione del PEV a piano di lineazione di parere archiettori che è strumento che permette la conoscenza delle parere presenti sui territori a livello di mobilità proponendo soluzioni a livello di difficilità in modo da favorire gli interventi in grado di garantire un territorio definibile da una utenza allargata saranno agevolati gli interventi necessari al recupero del pari volo di riso privato esistendo al fine di limitare il consumo del territorio vado un po' più veloce salto un po' di pezza che rende più i lavori pubblici e le manutenzioni a settimo punto si intendo realizzare e il posto mandato saranno finalizzati essenzialmente alla concentrazione e al miglioramento dell'assetto infrastrutturale esistente in tal senso con riferimento all'opera esternale al fine di migliorare la sicurezza degli utenti saranno proseguiti soprattutto sulla viabilità infrastrutturale gli interventi di infascimento delle pavimentazioni di miglioramento dei sistemi di raccolta e di convogliamento degli atti superficiali con di raccolta che sono già realizzate nei vari contratti nel vario territorio comunale al fine di incrementare la sicurezza del traffico petrolale saranno installati nel punto di maggiore pubblicità sistemi per la segnalazione e eliminazione di attraversamenti pedonali onde raggiungere massimi livelli di sicurezza dei pedoni utilizzando le più recenti tecnologie saranno realizzate nuovi percorsi in marciapiede e camminamenti sulla viabilità principale saranno collocati dissuasori elettronici di velocità in raccordo con gli enti proprietari delle strade stesse aggiungo che sarà svolta anche il servizio di velox proprio per dare maggiore sicurezza e far capire che c'è un controllo sul territorio saranno installate colonnine per le cariche elettriche e create nuovi parcheggi per la mente al servizio del capologo le colonnine faccio l'inciso dovranno essere già installate ma per delle problematiche inerenti approvvigionamenti vari di ciclico adesso non so tecnicamente qual è la cosa non ancora però abbiamo o sollecitato ma l'assessore Carava mi sa che ha continuato a sollecitare per l'installazione giusto l'assessore per quanto riguarda l'alluminazione e proseguiranno gli interventi di efficientamento energetico mediante l'installazione di nuovi torri illuminati con tecnologia LED su questo dovremmo fare uno sforzo ulteriore perché oggettivamente questa è conoscenza da parte di tutti che c'è un incremento smisurato del costo delle potette LED sia nel privato che nel pubblico e ci saranno difficoltà nel chiudere i bilanci sia delle famiglie e sia degli vari enti locali e anche a livello di provincia c'è un buco da chiudere di 2 milioni per quanto riguarda l'energia che oggettivamente è molto importante la conferenza è stata città c'è stato un incontro in cui non si è divenito una conclusione adesso negli ambientamenti presentati proprio nell'ultimo nel gruppo di due anni che è arrivato a controllare c'è già una disposizione di somme che verranno messe a disposizione per i bilanci e anche noi che dovremmo approvare il bilancio a breve vogliamo abbiamo necessità di reperire queste somme che sono importantissime un'altra cosa a cui teniamo che l'accordo del gestore del servizio idico integrato sarà eseguita la ricognizione delle aree extraurbane al fine di individuare zone con maggiore criticità idrica così da coprogrammare contenzioni o rifascimenti di acquedotto saranno proseguite le azioni positive finalizzate dal contenimento energetico sui edifici pubblici maggiormente energicoli come quello che abbiamo fatto nel TFR municipio con riguardo al verde pubblico saranno eseguiti interventi di qualificazione con particolare riferimento alla pica comunale e agli orte orte a riverdi presente all'interno del centro urbano si proseguiranno i lavori di pavimentazione dei viali interi al cimitero nonché lavori di organizzazione di terri di locuri sarà apposta la topomastica interna sarà realizzata in casa funerale per accogli dei fondi prima della loro formulazione e per la loro veglia saranno richiesti finanziamenti specifici proprio per le attività di urbanizzazione di miglioramento urbano di tutto centro storico di tutto centro urbano e del territorio comunale si realizzeranno ulteriori interventi con pubblicità in questo oggi la chiesa avvalutare le aree del territorio maggiormente soggette all'instabilità a riguardo sono già progettate finanziate gli interventi in località Caprafico Valilotti Colle della Torre Via Montaniera e Centro Storico particolare attenzione sarà riservata al Palazzo delle Associazioni che nei limiti dell'instabilità finanziaria è legata al suo pieno recupero e considerando i regime di vinco a cui è sottoposto dovrà rappresentare il luogo ritenciato per il rinforcimento di attività e servizi a parte della comunità e con l'occasione anche di informare il Consiglio che si stanno svolgendo anche le prove con affidamento alla progettazione su delle stesse di 165 mila euro per la progettazione del Palazzo Scolastico delle prove specifiche tecniche e si realizzeranno non è di stesso verranno le rite a fare queste cose si ma molti verranno a fare le specifiche del loro il Covid appunto 8 il Covid ha portato a gara tutte le palle del sistema sanitario la più grande di tutte le hanno pagate i cittadini sulle loro pende assistenza medica sul territorio infatti lo smantellamento dell'assistenza sul territorio costinge da anni a recarsi per qualunque cosa a torno di soccorso aumentando le copie in proti soprattutto per diabete malattie bombolari e pensioni mediche di soffio di malattie economiche sia grave i fondi di disposizione del PNR sono finalizzati a potenziali le leggi di prossimità e strutture intermedie della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale ed è proprio in questo almeno che intendiamo conosci per dare a caso le sue strutture sanitarie in un ruolo centrale nel territorio così come si è realizzato in occasione della fase vaccinale in questo caso l'occasione per lì che stamattina ho partecipato al comitato rispetto dei sindaci e ho voluto evidenziare la necessità di effettivamente erogare fonti sia economici che di risorse umane quando riguarda la sanità territoriale e la centralità di caso che sarà al momento di questa programmazione centro COT di coordinamento e sarà anche un altro per quanto riguarda la casa della salute ma ovviamente senza dimenticare le altre aree interne che dovranno essere sede di erogazione di servizi sanitari siccome nella progettualità vengono cambiati i termini ho voluto chiedere direttamente e messa per fare la direzione generale siccome venivano a mancare le case di comunità sia alla l'amanevinia dal distretto che Torrice Cappellini ho chiesto al direttore se a prescindere dal nome quali erano i servizi che venivano elaborati da queste strutture ha assicurato il direttore la presenza di tutti che nel suo servizio sarà tagliato nelle aree ancora più interne e che anzi saranno potenziati e per questo saranno potenziati sia con gli ingegneri di comunità che rivalutando delle ore di specialistica che saranno in funzione sia nel nostro territorio di riferimento direttamente caso ma anche sull'Ava quindi Gesso Palena Tosicella Palena e tutti gli altri territori delle aree interne questo l'ho voluto sottolineare fortemente perché è una criticità molto forte e ho voluto sempre chiedere al direttore generale che lui aveva parlato di risorse che venivano erogate nel territorio per il 60% sul territorio e 40% nell'ospedaliero e che ad oggi invece è il contrario questa tendenza che state portando avanti noi la dovete portare effettivamente a compimento perché altrimenti rimangono soltanto parole pelle da dire ma poi effettivamente i risultati pratici non vengono a compimento quindi noi abbiamo dato anche parete favorevole sia il bilancio a quella concettualità però quando dice sine qua non che il territorio venga rappresentato con servizi reali e fondamentali per il nostro territorio io adesso mi fermo nell'esposizione delle linee di mandato se ci sono domande a fare resta a disposizione e comunque il programma è visibile sul sito del comune a disposizione di tutti e comunque la cosa più importante di questo mandato è che lo vogliamo fare in collaborazione il più possibile con gli amministratori con i cittadini con tutti coloro i quali hanno la voglia la volontà e la capacità di dare il proprio contributo quindi grazie Presidente grazie a tutti il consiglio grazie sindaco allora ci c'è la testa la discussione eventuali interventi consigliere Giuliani prego grazie a te grazie grazie si sente si si con gli appunti si si con gli appunti li posso lasciare allora l'esplicitazione di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca in grasa all'articolo di uno dello statuto e ovviamente i termini e i termini sono stati rigorosamente rispettati in una disciplina in merito ovviamente noi siamo in parte di una lettura amministrativa diversa anche da alcuni aspetti inconciliabile con il programma che è stato appena depinato e che comunque sulla quale sulla cui base comunque ci siamo confrontati in campagna elettorale non siamo stati legittimati a poter implementare quella che comunque sarebbe stato dalla nostra visione e gestione dei fatti ma se vogliamo c'è stato anche un po' sottolineato il ruolo necessario per dover assumere in termini di critica costruttiva il programma è denso di impegni e quello che ci preme maggiormente sottolineare è che adesso viviamo un momento in cui è davvero necessario operare un cambio in passo per le sfide di opportunità che anche con il PNRR ci verranno presentate come realtà locale quindi sarebbe davvero insomma un piccato stazionare e ristagnare cosa che non ritengo opportuna ma comunque neanche iscrivibile al profilo di questa amministrazione perché comunque è facile e l'interesse di tutti o comunque la realizzazione di un contesto vivibile competitivo e attrattivante penso che sia proprio negli interessi di chiunque decida di imbattersi in una questione di una vita amministrativa di riano istituzionale ovviamente i punti del mandato delle linee del programma ci trovano in disaccordo perché avevamo un'interpretazione diversa non criticarvi in quanto comunque espressione di una visione amministrativa che è propria quindi su questo noi marito non possiamo discutere però sappiamo e vogliamo necessariamente stare lì ad attenzionare quelli che saranno poi i passi di implementazione di questo programma quindi la concretezza di questi obiettivi quando verranno raggiunti quando ci dovessero essere comunque delle difformità delle difficoltà delle pubblicità sarà nostro dovere evidenziarle capirle le ragioni e cercare ovviamente di dare un contributo anche diverso ad una possibile soluzione che magari può essere migliore se integrata anche dalla nostra partecipazione io sottolineo ripeto che sarebbe anche opportuno cercare di aprire un canale comunicativo integrato che sia a modo sia a noi amministraturità a noi consideri di minoranza sia alla cittadinanza pubblica nei profili pubblici e privati di conoscere quali saranno le risorse ottenute dell'ambito del PNRR per Casoli su Casoli quali saranno poi gli impegni che avranno competenza nel cercare di poter ottenere il più possibile per gli investimenti da realizzare sul territorio sopra sottolineando che Casoli per quanto abbia degli obiettivi coerenti con quella della sua storia con quella della sua tradizione di paese guida paese leader nell'entroterra è necessario comunque valorizzarlo anche da un punto di vista infrastrutturale e strutturale di venire in mente soprattutto l'esigenza di parcheggi perché ovviamente la portiamo molto come questione Casoli deve essere evitibile deve essere attrattivo appunto all'attivismo però bisogna anche di un contesto e di una matrice recettiva più importante questo significa strutture alberghiere parcheggi sistemazioni strutturali e quant'altro e poi è vero che c'è una sottolineazione importante in termini di apertura alle associazioni e ai privati non ho dubbio che questo sia significato comunque una sorta di deresponsabilizzazione da parte dell'ente perché sono sconocente che il territorio venga presidiato anche dai posti istituzionali del caso Belberghi è volontariato ma ovviamente la sostanza maggiore deve essere fornita dagli enti competenti e dall'amministrazione dall'ente pubblico e dentro questo ripeto non entriamo non entro nel merito perché non siamo stati legittimati a farlo in questo caso però sarà vivo e vivace il nostro confronto ma è scontro perché insomma è il caso di cambiare passo di dare una velocità diversa e intendo che le competenze e i profili ci siano se in qualche modo abbinate e combinati possono davvero farla la differenza questo è il mio intervento grazie consigliere mandato elettorale considerando la continuità di amministrazione tra lo scorso e il presente mandato non si rilevano slanci di discontinuità né visioni per una crescita sociale economica e civile del nostro comune si denotano diverse contraddizioni per il turismo per lo sport e per il sociale tutte le incazioni che a prima vista si è illudono salvo poi levarne la scarsa applicazione testimoniata dal fatto che alcuni contenuti erano già presenti sulle linee programmatiche del 2016 di cui ne ho seguito gli sviluppi proprio per questo io prendo le distanze dalla mentalità di questa maggioranza che si dimostra per nulla lungimirante ed ambiziosa e direi anche incapace di osare ma tutto questo diciamo questa mia idea sindaco è maturata anche da questi primi mesi di mandato che ho vissuto un po' più da vicino e faccio alcuni esempi per esempio il programma delle festività natalizie che io ho reputo assolutamente misero povero e non all'altezza di un paese come Caffoli e su questo chiamo in causa anche il consigliere Pietro Paolo che mi sembra che la delega riguarda sempre riguardo a quelli che sono stati questi primi mesi porto l'esempio dell'iniziativa dei giocattoli usati non so come definirla cioè da quello che ho capito è una pseudo iniziativa in cui si invitavano le famiglie aventi giocattoli inutilizzati a portarli in comune così da poterli distribuire i bambini il 5 gennaio vabbè mi permetto di chiedere poi quanti giocattoli sono stati donati e poi chiedo a lei sindaco se lei comunque regalerebbe ad un suo caro un qualsiasi oggetto usato cioè non credo che lo fare qui non credo perché lo dovremmo fare ai bambini del nostro paese quindi ecco questa è l'idea che mi sono fatto in questi primi mesi questo è quello che ho potuto percepire dalle mie programmatiche e quindi l'appello che io faccio a tutta la maggioranza è proprio di dare ancora di più un sindaco dal punto di vista dell'impegno della costanza della concretezza delle azioni condivido pienamente con il consigliere Giuliani il fatto che noi come bambino saremo a disposizione non solo in quanto consiglieri comunali ma anche come cittadini e quindi sindaco lei dovrà avere la capacità di coinvolgerci di coinvolgere noi e comunque tutte le realtà del nostro paese come magari l'associazione e altre iniziative di privato con questo mio intervento dichiaro un parere negativo a questa proposta grazie le dichiarazioni di voto ve le richiederò a breve intanto vorrei chiedervi prima se ci sono ulteriori interventi se non faccio 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 grazie presidente io racconto l'invito della disponibilità dei consiglieri giudicati e gli agneri anche perché li conosco da tempo e so che sono anche come cittadini dei ragazzi delle persone dei professionisti in gamba quindi avranno avranno un modo di lavorare bene per lo sviluppo di caso consiglitemi di dirvi in particolar modo consigliere Ianie che un'amministrazione nuova per il 75% quindi 9 su 12 come del resto la minoranza era fatta di 9 su 12 avere già dei preconcetti e dire che una vecchia desueta non so come aveva identificato è un modo di dire retorico e quando meno priva di continuti parlare poi di attività natalizie io capisco che a me non ha la responsabilità di avere la gestione di un intero territorio fatta di famiglie di persone e quant'altro era un momento in cui c'era la massima recrudescenza dell'attività di copia e quindi è stata una scelta ben precisa quella di evitare incontri e quella di evitare possibilità di contagi quindi lei la pezza diversamente lo può fare ma capisco che una sua opinione che rimarrà come tale per quanto è di mia rilevanza la gestione di un comune di un'amministrazione comunale non è fatta soltanto di attività ricreativa ma è fatta di tante cose io sono molto fiducioso per questo gruppo nuovo ma il gruppo nuovo l'ho detto già al primo consiglio comunale che non è fatto soltanto di un gioco ma è fatto anche di ignoranza e ricordo non ricordo bene le parole ma il concetto lo ricordo molto bene ero fiducioso nel fatto che avendola mai per me essendo vecchio di questo comune al quarto mandato c'erano dei preconcetti che venivano dei confronti personali dei personalismi che andavano a bloccare anche delle scelte positive perché io non ho mai avuto e lo sottolineo fino ad oggi preconcetti in scelte positive fatte da altri che siano di minoranza o di altri gruppi appartenenze io sono convinto che le scelte positive per il nostro territorio devono essere apprezzate e portate avanti a prescindere da chi vengono e ricordo molto bene quando in un incontro qua dentro la consigliera Giuliani fece delle proposte fece delle proposte per poter fare delle cose assieme forse io avrei avuto anche qualche ripresa per dire ma perché invece no quello è lo spirito collaborare con gli altri perché non è importante chi si assume la paternità di fare qualcosa o non farlo ma l'importante è lavorare bene assieme al territorio poi ognuno avrà i propri riconoscimenti quindi io sono molto fiducioso che questo gruppo lavorerà molto bene perché ha voglia di capire di comprendere e di andare avanti e adesso abbiamo veramente tante possibilità mettiamole in pratica grazie presidente Allora in quali dichiarazioni di voto prego consigliere Berlopalo Anderla Valotto rispondo al consigliere Gnaglielo ha detto benzi il sindaco che purtroppo fate le vicissitudini sanitarie di quello non ripeto rispondo al consigliere Gnaglieri come ha appena detto il sindaco che purtroppo dato il periodo per gli eventi natalisi e il percorso diciamo l'avvenire del covid che sta arrivando e il contagio numeroso abbiamo fatto delle scelte ben precise di non fare eventi pubblici numerosi di non organizzare un calendario ricaderante perché purtroppo già non sapevoli che andavano incontro in un periodo molto difficoltoso infatti poi c'è stata la conferma perché non potuto sospendere il calendario natalisi perché non era più diciamo il caso che svolge il calendario quindi rispondo dicendo che purtroppo gli eventi natalisi sono anche incriticabili perché non si sono potuti svolgere proprio per motivi sanitari questo è quanto grazie grazie presidente grazie grazie con vigore e forza grazie grazie consigliere prego consigliere di italiani noi abbiamo scritto insieme non le contestiamo nel mail non le contestiamo contrariamente e noi abbiamo quello che continuere per fare il meglio adesso procediamo alla votazione allora se mi concedete solo una breve risposta al sindaco al consigliere adesso c'è la dichiarazione di voto o perché no quando ti fai la dichiarazione di voto dopo il finito perché la discussione ma io ho comunque fatto il mio intervento quando diventa il sindaco io non posso più potrete chiedere fatto personale no io conosco benissimo quello che quello che stiamo passando dal punto di vista sanitario e tutti i problemi che ne seguono io volevo sottolineare quella che secondo me è la mentalità di questa maggioranza prendendo come esempio quello che è stato il cartellone degli eventi a mio modo di vedere è poco ambizioso poi è anche vero che ci sono delle altre realtà anche non molto lontane da noi dove ci sono stati degli eventi quindi solamente questa felicitazione e ci tengo a sottolineare che il mio intervento vuole essere solamente uno sprono a questa maggioranza a dare ancora di più per tutta la nostra comunità grazie 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 allora procediamo con la votazione favorevoli contrari astenuti arrivi per approvata grazie 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 Grazie. 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 Allora, dicevo, resistere il giudizio è un termine tecnico che non è utilizzato sia nel cerco tecnico. Grazie. Grazie. È solo un'altra presentazione così perché deve定izzare il giudizio al meglio. L'articolo 2 dice che in realtà questo regolamento alle caratteristiche generale prova limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova il cittadino e l'apposto specifico regolamento. Poi però all'articolo finale, quello relativo alle ordine abbrotate, è specifica con le ordine di quelle precedenti regolamenti che sono abbrotate tutte le ordine regolamentari con i sommo incastanti, ma non quelle speciali, ma quelle non speciali, sicuro, del regolamento generale, quindi fonte su fonte, portata generale, portata generale, portata speciale e portata speciale. Ma erano solo delle recitazioni. Grazie. Se non ci sono ulteriori interventi, io procederei a una dichiarazione di voto. Se ce ne sono, se non ci sono ulteriori interventi, io procederei con la votazione. Favolevoli. Adesso vogliamo per l'immediata esegibilità della delibera. Favolevoli. Credo ci sia un'unanimità e quindi la delibera è approvata. Quinto punto all'ordine del giorno. Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, modifiche e integrazioni, segnalatura dell'assessorato del bilancio urbanistico e commercio e quindi chiedo di nuovo la parola all'assessore di vita. Prego, sessore. Grazie Presidente. In questo caso si tratta di una politica, regolamento per l'istituzione della disciplina del canone unico patrimoniale che era stata approvata da questo Consiglio comunale nel 2020, ma a marzo del 2021. Anche in questo caso è necessario intervenire in merito perché abbiamo previsto superiori sanzioni di andare al canone unico e quindi vanno integrati alcuni articoli del nostro regolamento. In modo particolare viene integrato nel seguente punto. La pubblicità è frutturata dalla nuova attività che si interviene nel centro storico per il periodo da quale a tre anni hanno tante le attenzioni, quindi la pubblicità in questo caso non viene pariata. Per quanto riguarda le occupazioni derivanti dalle realizzazioni del cappotto tecnico di cui ce l'avevamo già discusso poi in questo caso comunale, anche in questo caso inseriamo questa esenzione, un'interiore esenzione, l'abbiamo nel caso di cui le occupazioni del suolo sono finalizzate all'installazione, alla manutenzione e alla gestione di impianti per la distrazione per la distribuzione dell'acqua microfiltrata, le cosiddette case dell'acqua e un'ulteriore esenzione, l'occupazione di chiese tra le nuove attività che si inserchiano nel centro storico, quindi per le nuove attività che si insercheranno nel centro storico non sarà pagata la Tosa e le occupazioni di suolo pubblico richieste dalle imprese affattatrici di lavori pubblici, che non delle indecrazioni che andavano fatte e quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale, il nuovo regolamento con queste indecrazioni, anche in questo caso era stato regolarmente depositato e con ulteriore il regolamento era stato regolarmente depositato e quindi chiedo, con ulteriore votazione, di dichiarare i procedimenti immediatamente eseguiti. Il resto è di disposizione per eventuali tratamenti. Ok, in un quale interventi. Prego, consigliere Giuliani. Solo per chiedere, assessore, se i contingenti multigiratori sono gli stessi che sono stati o gli discussi alla deliberazione del regolamento del 2021. Sì, le modifiche riguardano soltanto l'integrazione di questi articoli che ho riportato. Quindi sono delle informazioni che prevediamo del nuovo ordine. A favore delle attività. Sì, non solo a favore delle attività che si inseriranno nel centro storico, ma abbiamo aggiornato anni e anni e posto della precedente deliberazione per quanto riguardava i rapporti termici e poi abbiamo inserito questa delle attività dell'acqua e quella delle imprese appartamenti di lavoro e pubblici ad oggi. Quindi in questo caso non spanderanno nessuna tassa per l'occupazione degli spazi pubblici. Chiaro, se posso e mi esprimo anche a nome del Consiglio di Agneri, già un'accezione di voto favorevole al regolamento, anche compiaciuti di queste agevolazioni e di questo ampliamento di portata del regolamento che permetterà magari di poter avere maggiori benefici per uno sgancio un po' più attivo e naturalmente all'insediamento sul nostro territorio di altre attività o comunque di altri progetti. Una richiarazione di voto è già stata, ci è fatto un'altra, altrimenti passiamo alla votazione. Allora, favorevoli, credo che siamo già in un'unità, quindi la delibera è approvata e adesso procediamo alla votazione per l'immediato eseguibilità. favorevoli. Sesto punto all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, modifiche e impiegazioni, sembratura dell'assessorato nel bilancio, organizzio e commercio, cedo la parola sui rifiuti. Grazie, grazie Presidente. Anche in questo caso si tratta di aggiornare il nostro regolamento pari e adeguano quindi agli interventi legislativi che ci sono stati in questo periodo. Non vi nascondo che la materia è in continua evoluzione e quindi ricorreremo secondo me spesso a questo, tipo di modifiche e di intervento. Quindi proprio per questo, considerato che i regolamenti che hanno già stato messo a disposizione, anche in questo caso noi andremo ad approvare quindi il nuovo regolamento, le variazioni al nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, la possibilità tali. Anche in questo caso abbiamo due allegati, l'allegato B che prende in considerazione le variazioni, l'allegato A che potremo nell'insieme per quanto riguarda l'approvazione complessiva del nuovo regolamento pari. Anche in questo caso chiedo l'immediata di eseguitività e il resto a disposizione per qualsiasi richiesta. Grazie, grazie Presidente, grazie Assessore. Qualche informazione relativamente alla delibera per farla. Non so se ci sono stati dei cambiamenti in merito alle alicote, ai deficienti di disordinazione, come si sta orientando la vera, il bilancio e la uniprevisione che andremo ad approvare entro marzo 2022 e quindi queste regolano la notifica di regolamento necessaria e proprietaria all'approvazione del bilancio. Sì, per quanto riguarda l'approvazione del bilancio rispetteremo i termini previsti dall'attuale normativa. Proprio in questi giorni si sta discutendo della possibilità di approvazione, cioè l'unica cosa che impediva di approvare il bilancio anche senza ricorrere quindi all'esercizio provvisorio ed avere quindi già il bilancio approvato, l'unica riserva era proprio quella delle dati federatari. Sembrerebbe che l'orientamento che il governo sta prendendo è quello di dare la possibilità di approvare il bilancio e di rimandare l'approvazione delle dati in un momento successivo. Sembrerebbe che questa proposta non riguarda soltanto il 2022 ma sarà una norma che varrà anche per gli anni successivi. Proprio perché tutti i comuni stanno ritardando l'approvazione del bilancio proprio perché non abbiamo i dati che devono essere forniti dal gestore del servizio e dall'area e quindi speriamo che questa proposta trovi la definitiva applicazione, la definitiva approvazione e quindi andremo avanti sia per l'approvazione del bilancio e sia per l'approvazione delle dati. Cioè che stasera non sono in grado di dire se le dati che aumenteranno o non aumenteranno, però abbiamo dei meccanismi che comunque riusciranno a contenere l'eventuale aumento. Cioè così come si sono stati per gli anni scorsi, il 2019, il 2020, il 2021, molto probabilmente si potrà riposere a dei fondi speciali proprio per contenere l'eventuale aumento. Grazie. Inferiori interventi. Se posso... Grazie per questa domanda gestiva per avere un po' di contezza sull'eventuale incremento. se ci dovessero essere la garanzia di poter ammortizzare o comunque di poter digerire qualcosa di più che positivo in un momento come questo. Avrei chiesto sicuramente rispetto alla tendenza come ci si sarebbe comportabilmente. Grazie. 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 Grazie Presidente, come ho già avuto modo di dire questa sera, portiamo alla provazione del Consiglio il regolamento per la concessione di significi e la nuova attività che si insegna nel nostro centro storico. E' l'intenzione di questa amministrazione favorita lo sviluppo del centro storico e riconoscere i benefici a favore di quelle imprese che si insiederanno nel nostro centro storico. Quindi il regolamento è già stato messo a disposizione dei consiglieri e quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio la seguente del intero, cioè quella di approvare per i motivi esposti il regolamento comunale per la concessione di beneficio e la nuova attività che si insegna nel centro storico del comune di Casoli, che è convosso da 13 articoli e con l'inferiore votazione chiedo di legata eseguitità. Riassumo brevemente quelli che sono i vari articoli e quindi dei disciplinari, la prima di tutta la finalità, quelli che sono i beneficiari, quindi le varie società e le varie imprese, quindi le imprese costituite sotto forma di società e tenendo conto quindi che la loro tipologia curita possono prendere, possono allogare la loro storia all'interno del nostro centro storico. I requisiti poi vengono dettagliatamente elencati, quindi devono essere personalmente iscritti nel registro delle imprese e devono avere tutte quelle caratteristiche tipiche e rispettando anche la legge delle società e in modo particolare per quanto riguarda le società che sbordano attività di artigianato in genere, turismo, fornitura di servizi destinati all'ambiente, fornitura di servizi in genere, commerciante e taglio e attività rientrante nel campo della somministratura al pubblico di alimenti e pevante. Eppure ci sono degli obbligi a carico del beneficiare a cui il beneficiare lo stesso deve attenersi e una delle cose che voglio sottolineare è che non potranno che queste imprese, una volta che queste società, queste imprese, una volta che avranno appunto delle accelerazioni, comunque non possono installare al loro interno delle apparecchiature che svolto maicino, conti tipo, lotteria, lotteria, video-rotteria. E quindi il gioco d'azzardo è perché tutte queste installazioni di una di queste apparecchiature comporta la repota, la repota dei benefici. Questi benefici possono essere sommati ad altre agevolazioni che l'impresa stessa può avere e abbiamo stabilito una somma massima di 1.000 euro anni. Quindi, cioè, tenendo conto un po' di tutte le agevolazioni, quindi partendo da tutte quelle tasse previste dal canone unico, non devono superare l'insieme di 1.000 euro. Questi benefici saranno riconosciuti per tre anni dall'insediamento del centro storico. Comunque, quindi, solo per domande, sono un'altra risposta. Grazie. Abbiamo la discussione. Interventi. Prego, consigliere di Danieri, avete la parola. Io raccolgo l'invito dell'assessore De Pera per quanto riguarda le domande. Vabbè, prendiamo atto che comunque con questa iniziativa si vuole tentare di rivalorizzare e di lanciare il centro storico. Quindi, per quanto riguarda le nuove attività, ok. Ma invece per le attività già esistenti non sono previste queste agevolazioni e comunque, diciamo, questi aiuti, definiamoli così. Poi, oltre a concedere queste agevolazioni alle attività, avete pensato oppure sono previste delle iniziative oppure degli eventi per attirare magari delle persone nel centro storico così anche da dare delle garanzie più concrete a chi investe o chi vorrà investire magari aprendo l'attività. Poi, sempre riguardo allo sviluppo e allo sviluppo del centro storico, avete pensato magari di coinvolgere anche degli operatori turistici ed economici al fine di fare delle scelte ancora più concrete e che abbiano degli svolti. E poi un'altra cosa che ho pensato e che quindi le chiedo è se avete pensato anche in qualche modo di recuperare i numerosissimi immobili che ci sono nel centro storico abbandonati, magari approfittando dei bonus che ci sono e quindi magari una volta recuperati questi immobili puoi darli in concessione gratuita alle attività. Questo sarebbe un'euto ancora più concreto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ci sono interventi a riguardo. Se non ci sono interventi richiedo una dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Grazie.